E ragazzi ce l'abbiamo fatta Maron, guardate sono ancora sudato Una partita pazzesca Dove essere sincero, non un Inter impeccabile A mio parere Però siamo riusciti a portarcela a casa Con non poche difficoltà Sensi Inmarcabile ancora Lukaku L'Inter espugna Cagliari 2 a 1 Recita ragazzi OneFootball Che come sapete è scaricabile gratuitamente qua sotto In descrizione sia per Android che IOS, sempre in descrizione Trovate anche balltrend.com Per acquistare i vostri completi Da calcio per la nuova stagione Che dire ragazzi, commentate e fatemi sapere Secondo voi chi è stato Il migliore e il peggiore Secondo voi della partita A mio parere ragazzi Sensi è stato Pazzesco, ha fatto delle giocate Incredibili, si è procurato Il calcio di rigore fondamentale per la vittoria Ha fatto anche un calcio Di punizione veramente con i contagiri Che purtroppo si è stampato sulla traversa Quindi ragazzi parere personale Sensi migliore in campo subito dopo Io ci metterei anche a Samoa Che è stato veramente molto bravo Tra i peggiori Che ci possiamo mettere? Forse Vecino Un po' spento Proprio come nella partita Contro il Lecce E poi forse che Andreva ragazzi Che sta settimana Era sempre per terra Non ha mai fatto niente di che Se non passare la palla indietro Pochissimi cross Poche azioni da gol Quindi direi che loro due sono A mio parere i peggiori Ripeto Partita tuttosommata Buona Non una grande Inter Perché dal punto di vista del gioco È stato molto confusionario I gol sono arrivati Grazie a delle Naturalmente giocate singole Ragazzi Il primo Un gol di testa Molto fortuito Che è stato veramente Al limite del fuorigioco Con l'altro Con una clamorosa giocata di Sensi Che ha dribblato Il difensore del Cagliari Che poi l'ho steso E ci ha dato rigore Che il buon Romelu Ha siglato ragazzi Quindi Sono contento che Il buon Lukaku È andato a segno ancora Quindi due gol in due partite Direi tanta roba Al momento siamo primi in classifica Ce la giochiamo adesso Non siete una prossima Perché c'è la pausa nazionale Ma A San Siro Con l'Udinese Mi sembra Sì Udinese Quindi Sulla carta dovrebbe essere Un'altra partita Assolutamente Nelle nostre corde Speriamo bene Fatemi sapere Lasciate un bel mi piace Commentate qua sotto La vostra Speriamo che Piano piano Iniziano a carburare Un po' Tutti i giocatori Soprattutto quei due davanti Perché Lukaku E Lautaro Indipendentemente dal fatto Che abbiano segnato Entrambi un gol L'ho visti un po' Spenti oggi Forse perché Già come mi ero accorto Un po' A San Siro Contro il Lecce Sono un po' Indietro di forma Rispetto al resto della squadra Si è visto Anche Brozvic Un pochino Oggi Un po' sotto tono Però Per il resto Ci sta ragazzi Dai Sono contento Soprattutto dei tre punti In un campo Non facilissimo Come sapete Perché andare a Cagliari Contro un Cagliari Molto rinforzato Nell'anno del centenario In cui ha speso tantissimo Non è facile Fatemi sapere che cosa ne pensate voi Ci vediamo domani ragazzi Carichissimi Con la live reaction Insieme a mio padre E che dire Vi saluto Ci vediamo con un prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti